certificata, quindi abbiamo eliminato una serie di burocrazie, telegrammi, una serie di le auto blu, abbiamo ridotto molti dirigenti, quindi tutto sommato c'è stata una riduzione di spese molto molto importante, quindi questo significa che la politica deve incominciare a ragionare in modo concreto perché i soldi pubblici sono soldi di tutti i cittadini e noi abbiamo il dovere di dare rispetto nei confronti dei nostri cittadini e soprattutto nei confronti di un bilancio che ci rende sempre più parteci e più responsabili. Però mi perdoni, fino a questo momento erano 8 milioni di euro circa le spese correnti del Consiglio regionale, con questi tagli si è abbattuto addirittura mi sembra di 5-6 milioni di euro tagliando cose che non mi sembra poi vadano ad incidere in maniera particolare anche perché se no non funzionerebbe il Consiglio regionale. Quindi fino ad ora qual è stata l'utilità di questi uffici, di queste aree, di queste situazioni che di fatto ci fanno pensare ad uno spreco? Abbiamo semplificato, abbiamo semplificato come è giusto che sia per quanto mi riguarda anche perché tutte queste aree, tutti questi uffici servivano a poco, servivano solo a incartare sempre di più la situazione politico-amministrativa del Consiglio regionale. Dobbiamo avere un Consiglio regionale più snello, più veloce e più adeguato ai tempi, ma soprattutto al servizio del territorio. Quindi la regione non può rappresentare un ostacolo allo sviluppo, ma deve rappresentare un motore vero della nostra economia. Torniamo nella politica locale, situazione elezioni. A Cassino è spuntata una candidata, una candidata indicata da qualcuno del suo partito, del PDL. Forse non c'è una visione univoca all'interno del partito. Io ne approfitto, quindi ringrazio per questa domanda, una domanda molto pertinente soprattutto in questo momento particolare. C'è uno scontro di metodo e soprattutto di impostazione per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione di questa campagna elettorale. C'è Mario Abruzzese che vuole portare avanti un processo vero, forte di rinnovamento nella città di Cassino e c'è un altro gruppo che vuole fare una fotocopia del passato. A noi questo non interessa, quindi non certamente stiamo qui a denigrare la loro organizzazione, la loro impostazione. A noi non interessa, noi andiamo avanti per la nostra strada senza problemi, quindi lo facciamo nello spirito vero di una impostazione che noi ci siamo date e soprattutto una impostazione vera e concreta sposata dai nostri sostenitori. Quindi noi ci crediamo, andiamo avanti e ognuno faccia la propria strada senza problemi e senza polemiche. Quindi in queste ore sicuramente si deciderà a chi verrà consegnato il simbolo del popolo della libertà, quindi dopodiché si inizia a raccogliere le firme e si presentano le candidature in questa città, quindi una città come Cassino, una città importante, conosciuta in tutto il mondo, quindi hai bisogno anche di uno slancio diverso, di un'organizzazione diversa, di un'attenzione particolare verso i giovani, verso le imprese, di far sentire la nostra voce in questo caso, visto che sono di Cassino, la nostra voce in provincia di Frosinone e nel contesto regionale, ma soprattutto agganciare questo mondo economico molto forte, il mondo economico del Lazio Meridionale al resto della provincia e al resto della regione. E se le dico di altre voci che arrivano, non da Cassino, però che riguardano Cassino, su una presunta candidatura di un'altra persona indicata dalla presidenza della provincia, appena l'esclusione di qualcuno dall'amministrazione provinciale? Questo preferisco non rispondere perché queste cose vanno chiarite, soprattutto vanno gestite in modo anche molto riservato, non si possono accettare, se non mi candidi tizio io caccio fuori due assessori della provincia, questo neanche in Africa succede, quindi è una cultura politica che a me non interessa, io sono uno che si è abituato a confrontarsi, a confrontarsi con serenità e a trovare anche una sintesi e un accordo, ma non attraverso i mezzi di comunicazione, ma all'interno del mio partito. Quindi i panni sporchi si lavano in casa? Ma non sono panni sporchi, io penso che la dialettica politica, soprattutto in queste cose, si debba riportare all'interno di un partito. Ok, parliamo di cose belle, alla fine parliamo sempre, ormai abbiamo una bella tradizione in questa trasmissione, parliamo dei ragazzi molto giovani che fanno visita al Consiglio regionale, diciamo ormai c'è questo scambio, una volta va lei da loro, una volta vengono loro da lei nel Consiglio, parliamo di una scolaresca, circa 120 studenti di Patrica che hanno fatto visita al Consiglio regionale, pregherei la regia di mandare le immagini, intanto le commentiamo insieme al Presidente, un'aula vivace? Sì, un'aula molto vivace, ma devo dire anche molto silenziosa e attenta, quindi attenta a seguire le spiegazioni del funzionamento del Consiglio regionale, dell'Assemblea, quindi abbiamo spiegato loro come si imposta un ordine del giorno, abbiamo spiegato come si gestisce l'Assemblea del Consiglio regionale, come si vota, ma soprattutto l'importanza che ha il Consiglio regionale del Lazio in merito alle nostre problematiche vere e concrete dell'economia, dello sviluppo della sanità, dei giovani, quindi abbiamo veramente passato una giornata straordinaria, una giornata straordinaria in mezzo ai giovani, in mezzo ai ragazzi e devo dire che io sto lavorando seriamente in questa direzione, tant'è che abbiamo anche organizzato il tour Essere Italiani in occasione del 150esimo anniversario della nostra unità d'Italia e lo abbiamo fatto con i giovani, l'abbiamo fatto con loro perché io credo che bisogna investire sui giovani perché i giovani saranno i responsabili della nostra gestione del domani e soprattutto devono rendersi conto dei grandi sacrifici che oggi tutta la classe politica, gli imprenditori, le famiglie, i genitori fanno per assicurare loro un futuro più sereno, quindi questo per me è un motivo di soddisfazione e grazie anche al sindaco di Patrica, soprattutto ai docenti, a questi ragazzi che hanno avuto un giorno particolare per essere onorevoli del Consiglio regionale del Lazio. Abbiamo visto che appena è entrato, stava andando a prendere posto su, poi ci è rimasto male che ha visto un bimbo seduto al suo posto, una curiosità, ha mai dovuto suonare la campanella per farli stare in silenzio o sono più bravi dei consiglieri? No, sono più bravi dei consiglieri regionali. E allora si può ripetere questa cosa? Sicuramente sì. Va bene Presidente, allora credo che abbiamo detto tutto, abbiamo dinocciolato un po' tutti i dati più importanti di questa settimana, ci aspetta un'altra settimana, soprattutto l'aspetta un'altra settimana e come al solito al termine della prossima, quindi venerdì, ci ritroveremo qui a parlare ancora delle notizie che arrivano dal Consiglio regionale e non solo, con il Presidente Mario Abruzzese. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.